Buona giornata a tutti. Oggi la liturgia propone di continuare il dialogo tra Gesù e Nicodemo, sempre dal capitolo 3 del Vangelo di San Giovanni, dai versetti 7-15. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo, non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Gli replicò Nicodemo, come può accadere questo? Gli rispose Gesù, tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose. In verità, in verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosò innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dunque Nicodemo ha l'affermazione detta da Gesù, che abbiamo già ascoltato anche ieri, cioè dobbiamo rinascere dallo spirito, dobbiamo rigenerarci ed essere condotti dalla voce dello spirito. E in realtà queste parole di Gesù non sono completamente nuove per Nicodemo. C'era tutta un'attesa in Israele della nuova alleanza, quando Dio avrebbe messo nel cuore dell'uomo lo spirito suo. E quindi l'uomo non sarebbe soltanto guidato dalla legge scritta, ma da una forza interiore, dallo spirito santo. Però appunto Nicodemo di fronte a questa affermazione chiede ma come può accadere questo? Non è una domanda sbagliata, però la risposta di Gesù è molto dura. Tu sei maestro in Israele e non conosci queste cose. E in realtà qui si capovolge l'andamento del discorso che era iniziato con le parole certe di Nicodemo. Noi sappiamo, adesso Gesù mostra che in realtà Nicodemo non sa, è un maestro che alla fin fine si limita a ripetere le cose che ha insegnato Mosè. È un insegnamento ripetuto che segue la solita strada, non è disponibile e forse non è neanche capace di cogliere le novità che Dio vuole realizzare attraverso Gesù. Ed ecco che Gesù annuncia un discorso nuovo, fa fare un salto in avanti nella sua rivelazione coinvolgendo anche tutta la comunità cristiana, infatti usa il plurale. Noi sappiamo, noi parliamo, cioè mostra come è nuovo l'insegnamento che lui è venuto a portare. E qual è la novità che adesso Gesù annuncia? Noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Cioè Gesù dice io non sono un maestro che ripete le cose che altri hanno detto, neanche quelle che ha detto Mosè, o meglio, ho un insegnamento superiore perché io sono un testimone che ha visto, che ha visto, che ha visto Dio e quindi rende una testimonianza superiore ad ogni altro profeta precedente. Il Vangelo di Giovanni è proprio iniziato dall'affermazione Dio nessuno l'ha mai visto, ma il figlio dell'uomo, il figlio suo Gesù, lui lo ha rivelato perché lui era con il padre fin dal principio. Ed ecco la caratteristica dell'insegnamento di Gesù, è una testimonianza di chi ha visto l'invisibile. E allora poi continua Gesù, se vi ho parlato di cose della terra e non credete. Come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Quali sono queste cose della terra? Probabilmente sono le cose che ha insegnato prima, quando ha parlato dello Spirito Santo. Non è che lo Spirito Santo sia terreno, ma indica un primo grado della dottrina di Gesù, dell'insegnamento di Gesù e cioè appunto il compimento delle promesse della prima alleanza che attendeva di fatto il dono dello Spirito. I profeti parlavano di un'effusione dello Spirito che avrebbe appunto reso possibile l'obbedienza alla volontà del Padre. Ma adesso Gesù ha un insegnamento ulteriore e lo specifica con delle espressioni che erano usate all'epoca di Gesù, quando si voleva sottolineare il grado della conoscenza, della salita al Dio. Infatti dice che nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo. Qui non si parla tanto dell'ascensione, qui si indica la capacità di arrivare a conoscere i misteri di Dio e nessuno è salito al cielo. Neanche Mosè che è salito sul monte Sinai è arrivato fino al cielo e cioè i segreti più profondi di Dio li conosce soltanto colui che è disceso dal cielo che è Gesù. E a questo punto qual è la novità allora? Qual è questa cosa celeste che Gesù può rivelare che invece il maestro Nicodemo non poteva assolutamente conoscere e che adesso ascolta ed è invitato a non rifiutare? Gesù in realtà la presenta questa cosa nuova attingendo sia dall'insegnamento di Mosè, da un episodio che aveva visto Mosè come protagonista quando gli ebrei durante i quarant'anni del deserto avevano incontrato dei serpenti e questi serpenti velenosi causavano molti morti. Allora Mosè aveva pregato Dio e il Signore gli aveva risposto fatti un serpente di bronzo, mettilo su un'asta, pianta l'asta al centro dell'accampamento. Tutti coloro che guarderanno a quell'immagine anche se saranno morsi dai serpenti non moriranno a causa del veleno ma guariranno. Ecco quell'innalzamento del serpente al centro dell'accampamento diventa per Gesù che rileggio questo testo dell'Antico Testamento un segno della cosa celeste che vuole insegnare e cioè il figlio dell'uomo sarà innalzato, bisogna che sia innalzato e allora chi crede in lui avrà la vita. Ecco la cosa celeste che noi forse siamo più disponibili ad accogliere rispetto al povero Nicodemo e cioè la necessità che il figlio di Dio si offra, muoia in croce per noi, si è innalzato sulla croce mostrando in quell'evento la novità sorprendente di Dio, cosa inimmaginabile. Ecco il Signore oggi ci riporta a considerare che possiamo aprirci alla fede solo se siamo disponibili di fare un cammino, solo se siamo disponibili di aprirci anche con sincerità alla nostra difficoltà. Nel Vangelo si incontrano dei momenti in cui gli apostoli mostrano la difficoltà di comprendere la cosa centrale che Gesù è venuto a insegnare. Pensate quando nel capitolo 6 di San Giovanni si parla dell'Eucarestia, molti discepoli dicono questo discorso è duro, non lo possiamo accogliere, come possiamo mangiare la tua carne. E così durante l'ultima cena quando Gesù dice ecco continuamente vi parlo del padre, io il padre siamo una cosa sola, allora Filippo non ce la fa più e dice ma allora mostraci questo padre, ne parli sempre. E la risposta di Gesù è ma da tanto tempo sono con te Filippo e non sai ancora e non è facile entrare nella logica di Dio, non è facile entrare a far nostro l'insegnamento centrale nel Vangelo che è l'innalzamento sulla croce del figlio che si dona per noi e che così apre la via al cielo. Io credo che la meditazione di oggi abbia proprio questo aspetto, renderci più umili, riconoscere che non è immediato nella nostra vita accogliere in pienezza l'annuncio della morte e della risoluzione di Gesù, del sentire che è il crocifisso che risorge, è colui che ha i segni della passione che è il Cristo glorioso ed è attraverso quella strada che si giunge alla vita. Noi di fronte a queste parole possiamo far resistenza, non comprenderle. Mi ha colpito una volta la testimonianza di Anna Laura Braghetti, una terrorista che ha tenuto prigioniera, ha collaborato alla prigionia di Moro e poi ha ucciso anche Bachelet e lei dice in una sua intervista che dopo aver ucciso Bachelet ha sentito per la televisione la testimoniante del figlio che durante i funerali ha detto perdono anche quelli che hanno ucciso mio padre. Sono state parole che mi hanno colpito ma ero talmente intossicata dall'ideologia che quelle parole non mi hanno cambiato la vita, non mi hanno toccato. Soltanto adesso dopo anni e anni e anni di carcere sono arrivato a dire che non voglio più far male a nessuno qualunque sia il prezzo da pagare e quelle parole mi ritornano. Ma in quel momento quelle parole pur così forti non mi hanno toccata. Ecco, riconosciamo che anche le parole del Vangelo non sempre ci toccano, non sempre aprono uno squarcio. Sono parole talmente nuove che esigono la pazienza, anche l'umiltà di dire Signore aiutami a capire, aiutami a far mie queste parole e credo che l'atteggiamento più importante allora sia quello che ha assunto Pietro dopo che molti hanno abbandonato Gesù in seguito al famoso discorso sull'Eucaristia, sulla carne da mangiare. Maestro, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Signore, anche se non capisco ancora, anche se la mia vita ancora non si apre alla novità che sgorga dalla croce, aiutami a starti vicino. Tu solo hai parole di vita eterna. Aiutami un po' alla volta a illuminare ogni mia azione da questa novità che tu sei venuto a portare.